Buongiorno, buonasera. Senti, ma ti vergogni di quello che hai detto, no? Eh, che devo dire, sì. Eh, te ne devi vergognappo? Eh, lo so. Eh, ma come fai a dire una cosa del genere, duce, dopo tutto quello che ha fatto? Ma io non lo so. Ma io non volevo dire assolutamente... Ma come non volevi dire? Hai scritto tutta la cosa dettagliata, l'ho letta tutta la cosa, l'ho letta tutta, tutta bene l'ho letta, sono indignato, cioè, mi è venuto e mi si è accapponata la pelle, io sono comunista, io capisci come sono comunista io? Eh, ho capito, amico, ma come cazzo si fa a scrivere una cosa del genere? Ma lo dici, un attimo? Ascolta, sono veramente dispiaciuto. Ma come ti è venuto in mente di apprezzare, di fare questi apprezzamenti in surduce, dimmi? Non era quello lì, e la questione era un'altra, perché le potevo stigmatizzare, era sempre una testa di cazzo, è riuscita a fare questo, possibile che ci passano da vent'anni in tempo a litigare, era questo il senso. Ma, mia amica, hai scritto testa di cazzo, però, hai scritto solo in oggi, hai scritto solo in oggi, hai scritto solo la riforma agraria, e la persona, e ho capito, la 13e, ma non ci credi a quelle cose? Ma non ci credo, oh, ascoltami, io faccio antifascismo da 35 anni. Ma non mi sembra che fai antifascismo? Io sono antifascista, no tu, io sono dell'Ampi, tu che sei, del PD, del Renzi? No, no, e sono dell'Ampi anch'io. Pure dell'Ampi sei? Sì, pure dell'Ampi, sì. Ma scusa un attimo, ma com'è possibile che hai scritto, ma davvero credi che Mussolini ha fatto tutte quelle cose? Dimmi la verità, ci credi un po'. Ma non ci vedono, ascolta, bisogna ti lasci, però, sono con persone, scusa. Ma come sei con persone? Sono con persone, perdono io. Senti, amico mio, fermo, oh, sono Cruciani della Zanzara, ciao. Ciao, ciao, ti lascio, però, perché non posso veramente. Fermo un attimo, fermo un attimo. No, non posso, non posso. Ma come cazzo ti viene in mente? Ma perché dici che non ci credi a quelle cose? Ci credi sul serio? Ma non, ascoltami. Ma ci credi, ma che dici? Ascolta, ascoltami, ascoltami. Io sono l'unico e quando va fuori, esce alla comemorazione, si arriva a tutti. Ma scusa, ma bastava che dicessi, ma bastava che dicessi, il Duce, è stato uno strozzo, ha fatto le leggi razziali, ma che bisogno c'era che metti tutto quello l'elogio là? Basta, basta, tu lo lega tutto il posto. Fatto, salve tutte le peggiori nefandezze e fece anche tutta, è quello che dicono tutti, è quello che... Ma però il posto è più lungo, scusami. No, però tu hai, scusami, ma che l'accesso? Che bisogno c'era, che bisogno c'era. Ma scusa, adesso non fare il paracu... Ma guarda che incredibile. Guarda che io a mi padre gli ho già sputato in faccia, attento Pascio, che non c'è detto niente. A me fece, io fece. A so con lei, amica, so comunista cosissa, so comunista così! Allora, questo piccolo schiaccino fatto in diretta, caro David, sul vecchio comunista incazzato, romanesco, eccetera, interpretato da sottoscritto, serve per dimostrare che cosa? Che le persone scrivono le cose. Poi però, travolti, travolti dalle polemiche, travolti dalle polemiche, se la fanno sotto. No, si accorge della sciocchezza, uno si accorge della sciocchezza dopo la polemica. La gente fa bene a chiedere scusa quando sbaglia, dai! Dai, su! Lorenzo Pirelli!